Fabian Marojan è il campione degli internazionali di tennis, città di Perugia, Gima Tennis Cup. Nella splendida cornice notturna del centrale del Tennis Club Perugia, l'ungherese si è imposto su Edoardo Lavagno e ha alzato al cielo il trofeo del torneo ATP Challenger 125 organizzato da Math Tennis Events. Ancora una volta magnifica la risposta del pubblico che ha onorato l'atto conclusivo dell'ottava edizione della rassegna. La sfida si è conclusa in due set con il punteggio di 6-2-6-3 per il tennista di Budapest, che con questa vittoria diventerà numero 91 del mondo. Al netto della sconfitta, grande valso in classifica anche per Edoardo Lavagno, il piemontese da oggi sarà numero 223 ATP. Dalla vittoria contro Alcarazza il titolo nel Challenger di Perugia per Fabian Marojan è stato un mese di fuoco nel segno dell'Italia. L'ennesimo match a senso unico della settimana corona la cavalcata del classe 1999 ungherese. Nel secondo parziale era arrivata una buona reazione dell'Azzurro, ma il contro break è subito seguito un nuovo break che ha mandato in ghiaccio la partita. L'ottava edizione della Gima Tennis Cup è andata in archivio con successo. Perugia e Lumbria hanno risposto alla grande le parole di Marcello Marchesini, presidente di Math Tennis Events. Possiamo puntare a crescere ogni anno e abbiamo dimostrato ancora una volta di essere pronte ad accogliere grandi campioni.